Ciao a tutti, sono Martin Palumbo, 21 anni, centrocampista della Juventus Next Gen. Ho iniziato da subito, avevo sempre un pallone tra i piedi fin da quando sono nato e a quattro anni ho iniziato a muovere i primi passi nel Monfalcone al tempo e poi ho continuato facendo provini all'Inter e poi sono andato all'Udinese dove ho esordito anche in prima squadra e fino ad arrivare a giocare qua alla Juve Next Gen. Quando è arrivata la chiamata della Juve ero molto felice perché comunque la Juve e la Juve non si può rifiutare, è un top club e comunque avere l'opportunità di allenarsi con la prima squadra, con grandi campioni e poi giocare anche in un campionato di Serie C è una grande opportunità per crescere per la propria carriera. I miei sogni per il futuro sono ovviamente di continuare a crescere, arrivare in Serie A o giocare la Champions e vincere qualche trofeo. Ciao a tutti, sono Mattia Compagnon, ho 21 anni e sono un esterno d'attacco della Juventus Next Gen. Ho iniziato a giocare a calcio in un piccolo paesino in provincia di Udine che si chiama Remanzacco e la squadra è l'Aurora. Poi mi sono spostato al Moimaco, Moimaco Calcio e poi sono approdato all'Udinese, l'ho fatto otto anni per poi passare sei mesi al Potenza e dopo sono venuto qua alla Juventus. Quando è arrivata la chiamata della Juventus all'inizio non ci credevo, ma poi quando è iniziato a concretizzarsi la trattativa ero veramente molto contento. Quello che mi ha reso orgoglioso è vedere i miei genitori così felici. Uno dei miei sogni è quello di esordire qua la Juventus e l'altro sogno è quello di giocare in Champions League. Ciao a tutti, sono Nikola Sekulov, ho 21 anni e sono un attaccante della Juventus Next Gen. Io ho iniziato a giocare all'età di tre anni nella scuola a calcio di Piacenza, poi dopo aver fatto 7-8 anni a casa mia praticamente dove sono nato e cresciuto, sono andato al Parma a giocare dove ho fatto tre anni molto belli dove mi sono trovato davvero bene. Dopo questi tre anni mi trovo qua in questa fantastica società dove sono orgoglioso e onorato di indossare questa maglia speciale possiamo dire. Quando è arrivata la chiamata della Juve ovviamente è stato davvero emozionante. Quando è arrivata subito con i miei genitori abbiamo deciso di venire qua, no? Mi sono sentito davvero orgoglioso e non vedevo l'ora di iniziare questa splendida avventura. Il mio sogno per il futuro è esordire con la prima squadra della Juve, chiaramente. Spero davvero di esordire con la nazionale maggiore dell'Italia. Grazie. Grazie.